Sicurezza sismica e non solo nel territorio della Valle d'Acro, siamo con Stefano Morales davanti all'abbazia di Santi Pietro e Paolo d'Acro, una manifestazione che è durata ben tre giorni ovviamente due giornate molto importanti perché è stato coinvolto tutto il territorio, una sicurezza ma soprattutto si è parlato molto di prevenzione Sì, noi diciamo in questa nuova esercitazione che abbiamo creato questa volta è stata più che altro per le prime due fasi che fanno parte poi del sistema protezione civile che sarebbero la previsione e la prevenzione normalmente si parla sempre di protezione civile per quanto riguarda la terza e la quarta fase che sono i soccorsi e il superamento dell'emergenza questa volta abbiamo voluto iniziare a sensibilizzare pure i sindaci e pure le comunità che la protezione civile non è solo quella così ci siamo avvalsi pure degli ordini professionali, geometri, ingegneri, architetti e geologi proprio coinvolgendo pure delle squadre di tecnici proprio su questo argomento Un argomento come dicevamo importante anche perché ovviamente questo territorio, il nostro territorio, quello della Valle d'Acro è un territorio abbastanza a rischio Sì, lo sappiamo benissimo, penso che tutti ne abbiamo già avuto l'esperienza con Scaletta, con Giampiliere e così via sotto quell'aspetto idrologico, idrogeo, ma c'è pure il discorso che comunque viviamo in Sicilia è una zona altamente sismica, specialmente la nostra zona è una zona altamente sismica quindi dobbiamo aspettarci, speriamo mai, però comunque essere pronti al momento opportuno Non abbiamo detto la cosa più importante che voi fate volontariato Eh sì, sì, sembra strano, molte volte ci chiedono ma quanto vi danno? Ci assumete? Mi fanno queste domande qualcuno, dice avete uno stipendio? No, è tutto volontariato, tutti con i nostri sacrifici che sono sacrifici economici e sacrifici di tempo abbandoniamo le famiglie, togliamo tanto tempo alle nostre famiglie pur con lo spirito di poter aiutare e contribuire alla tua collettività Grazie a tutti